Grazie a tutti. Vita a disposizione del tecnico signor Castaldi. Vedeschi, Corsi, Carrizzi, Carvaldi, Casatelli, Valenti, Ferranti. Guarda che bello. Bravi. Venti, Carri. Grazie, ragazzi. Ce l'avevano tutti. Va bene, Lella, bravo. Vabbè, ragazzi, diciamo un fenomeno. Ragazzi, mi fatti tirare però. Cosa ha preso quel portiere? Vabbè, lui è di prima. Cosa ha parlato l'Adige? L'Adige, il portiere. Ah, che peccato. Vieni, vieni così. Tira, cazzo, tira. Dai che ci siamo! Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Lama, lama, lama anche tu, lama. Vabbè, vabbè. Buono, buono, buono. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. No, no, no. Vabbè, vabbè, vabbè. Ma cavolo, attenzione. Andiamo al portiere, adesso. Non mettiamo un po' dietro. Sta puttana. Oh. Grande! Dai, gli taglini dietro. Che noi... Dai, ma... Fuori, Emo! Come fuori che gli è passato dietro un metro e mezzo? Figa, non è possibile! Siamo troppo fermi! Perché ce l'ha sempre loro? Quella palla lì! Bravo Luigi! No, non è sicuro per la prima parte! No, non è sicuro per la prima parte! Buono, buono, buono! Tocca con la palla lì! No! È prima di andare! Vai da sola! Vai da sola! Dai! Tira! Ma no! No! Ciao Luca! Bravo! Bravo! Dai! Vai! 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 Dai! Adesso andate un po' lo sapevo già no se vuoi te la faccio vedere la facciamo vedere da qua se vuoi ci sono manubri non vieni anche a falciapapa dal più bravo la faccio 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 sa che il progetto è che lo supporti la faccio e perché Ok, vai! Sì, anche noi abbiamo bravo, c'è il nostro cadastelli, il nostro attriccio. Demo sì, non è un grande periodo. E' un altro secondo tempo, ragazzi! E' un po' che non andiamo più, non lo attendiamo. Allora! Grazie! Bello, bello, bello! No! E tu, e tu, calma! Solo! Solo! Cava il limite! Cava! Cava! No! E' bravo! E' bravo! Bene, da prima! Dai, andiamo! Poglia! Buon! No mia! Oh! 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 No! No! Fuori, 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 fuori! Vuoi! Venti che ci sei! No! Sono! No! Diggilo mister, diggilo mister. Abito gay, capo degli gay. Cosa fai con lui? Dai, vai! 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 Ci sono due ragazzi. Dai qua! Andiamo! Su! No, no. Va bene.